sabato 29 aprile ben trovate amiche amici bianconeri arrivo molto tardi quest'oggi perché a volte bisogna anche avere un po l'ispirazione o comunque sentire avvertire il diciamo il contenuto da proporre e arrivo in questo momento perché domani sarebbe troppo tardi c'è la partita contro il bologna una partita importante da non fallire una partita nella quale come ho già spiegato come ho già detto anche ospite a radio bianconera ieri sera rom e milan giocheranno oggi interlazio giocheranno questa sera la juve giocherà domani e avrà la possibilità anche alla luce dei risultati di dare una sterzata un po a questo momento difficile della stagione quindi partita veramente fondamentale importante in un campo difficilissimo contro un avversario difficilissimo che gioca bene organizzato bene e che gioca con intensità quindi partita davvero difficile ma arrivo oggi perché nella conferenza stampa di oggi pomeriggio nel quale ha tenuto banco diciamo il siparietto non tanto simpatico perché per siparietto a volte magari si può pensare a un qualcosa di teatrale da riderci e scherzarci su invece non è stato particolarmente simpatico tra la domanda della giornalista fabiana della vare della gazzetta dello sport e massimiliano allegri che non ha recepito in maniera positiva la domanda postagli ovvero se la sua posizione alla luce dei risultati degli obiettivi conseguiti può ritenersi lui stesso soddisfatto oppure non esserlo alla luce del fatto che sono due anni molto tribolati vi faccio un sunto e è stata abbastanza piccata la risposta di massimiliano allegri io non voglio entrare nel merito della situazione che vive la juventus con il giornale in questione o massimiliano allegri con eventualmente la giornalista in questione queste sono cose di cui ovviamente mi devo assolutamente fare gli affari miei ma al di là di quello non conosco e quindi non entro nel merito poi però entrare nel merito della citazione fatta dalla stessa massimiliano allegri che trovo importante da sviluppare con voi perché è anche un modo così di confrontarci anzi fatemi pensare voi cosa qual è il vostro pensiero cosa ne pensate perché proprio ieri ho avuto modo di ascoltare perché in tanti l'hanno rituitata l'hanno rilanciata l'hanno presa a spunto così come punto focale di quello che è il concetto di sport credo di interpretare in questi termini mi riferisco all'intervista post eliminazione dei Milwaukee Bucks di Gianni Santetocumpo e le parole di Gianni Santetocumpo per quanto condivisibili per quanto belle perché va detto la risposta che lui dà al giornalista in merito al concetto di fallimento nello sport è certamente quella che ti fa diciamo vivere lo sport non con tutte queste tensioni con tutto questo anche astio tra rivalità tifoserie e quant'altro perché nello sport uno vince e gli altri perdono o non vincono e per quanto le parole di Gianni Santetocumpo io le apprezzi perché sono una bella un bel insegnamento di vita va anche detto bisogna però anche essere onesti e credo evidenziare quanto ci sia di vero ma anche di non vero perché perché io penso che se una società in questo caso la Juventus tant'è che io rispondendo sul mio canale linkedin sul mio profilo linkedin ad un mio contatto ho fatto la trasposizione di questo di quanto dice Gianni Santetocumpo riportandola alla situazione attuale della Juventus credo non sia assolutamente corretto dire che nello sport non esiste il fallimento perché il fallimento non è una cosa di cui vergognarsi il fallimento è un qualcosa che certifica l'aver mancato gli obiettivi in una determinata maniera mi spiego è vero nello sport uno vince gli altri non vincono prendiamo il campionato italiano quest'anno vincerà il Napoli tutti gli altri non avranno vinto hanno fallito tutti no io non credo che tutti abbiano fallito allora in questo senso avrebbe una diciamo validità il concetto espresso da Gianni Santetocumpo però se la Juventus perché ripeto faccio una trasposizione con la situazione della Juventus e quindi trasporto il tutto al caso della Juventus è partita quest'anno con investimenti e con l'obiettivo dichiarato di vincere lo scudetto non vincerà lo scudetto o non vince lo scudetto magari avendo anche fallito il treno Champions League quindi rimanendo fuori al quarto posto possiamo parlare di fallimento dell'obiettivo io credo proprio di sì la Juventus ha fatto un girone di Champions altamente scadente possiamo dire che quest'anno la Juventus ha fallito in Champions io credo proprio di sì quindi il concetto di fallimento nello sport per come lo ha espresso Gianni Santetocumpo può essere vero ma fino a un certo punto perché una squadra come la Juventus che si pone un obiettivo ad inizio stagione che è quello di vincere il campionato che è quello di vincere la Champions League che è quello di vincere la Coppa Italia non vince nessuno dei tre obiettivi non arrivi nelle prime quattro in campionato viene eliminata dall'Inter come sei stata eliminata supponiamo perché qui ovviamente è solo per spiegare il concetto di fallimento quindi non lo auspico ovviamente che si vada fuori con il Siviglia con una battosta all'andata e ritorno possiamo parlare di stagione fallimentare io penso proprio di sì e nella risposta ovviamente che Allegri da Fabiana della Valle trovo che ci sia al di là ripeto del fatto che ci siano degli ci sia dell'astio tra la posizione della Juventus e come esprime il quotidiano certi concetti le prime pagine i titoloni il sito online di Gazzetta al di là di questo io credo che in questo caso Massimiliano Allegri che non voglio qui attaccare sia chiaro non lo dico per attaccare la figura di Massimiliano Allegri ma lo dico per come ha risposto come la interpreto è un po' essersi parato il fondo schiena per non essere sgarbato e scortese perché ovviamente lui deve tirare l'acqua al proprio mulino ha chiesto ancora 35 giorni di tempo per vedere come finirà la stagione per poter dare alla fine eventualmente il giudizio su una stagione positivo negativo a seconda di come lui la interpreterà va da sé che io apprezzo se un allenatore mi risponde che questa domanda va eventualmente rigirata alla società che perché la società che prenda che prende le decisioni e quindi in fondo la stagione sarà la società a stabilire se il mio operato sarà stato soddisfacente perché il mio operato può essere non soddisfacente da un punto di vista dei risultati sportivi non ottenuti ma può essere soddisfacente per l'impegno la professionalità la serietà e perché nel non raggiungere gli obiettivi non li ho raggiunti per cause magari anche di forza maggiore sfortuna tanti infortuni perché tante cose sono andate storte non sto dicendo che è questo il caso specifico da viventus ma faccio per dire che tra il giudicare una stagione fallimentare o meno ci sono certamente delle situazioni che vanno tenute in considerazione perché si può perdere e quindi non giudicare una stagione fallimentare alla luce di eventi che hanno determinato quella sconfitta e di come è maturata quella sconfitta magari per fortuna hai perso una finale di champions ai calci di rigore e allora non puoi definire la champions fallimentare nonostante tu fossi partito per vincere ma per quanto riguarda la juve di quest'anno ad esempio una champions come quella che è stata condotta possiamo definire assolutamente una champions fallimentare e allora anche nello sport come nella vita e nel lavoro esiste il fallimento e non è una vergogna perché si può ottenere gli obiettivi ed essere idolatrati si può fallire gli obiettivi ed essere ovviamente diciamo messo dietro l'avagno sul tavolo degli imputati perché anche nello sport come nel lavoro se non raggiungi gli obiettivi dichiarati prefissati può essere che hai fallito questo è il mio pensiero ditemi la vostra noi ovviamente ci rivediamo domani c'è bologna juve una partita da non fallire assolutamente ciao a tutti buona serata ciao